Questo emendamento del Consigliere Corsetti, che per fortuna vede il dissociarsi del Partito Democratico, attesta quello che dicevo prima, cioè un ostruzionismo alla delibera stessa. La visione non è quella di possibilmente concediamo suolo pubblico, la visione è quella di, siccome ci sono congiunti familiari o animali domestici che devono camminare affiancati sui marciapiedi alle persone, e allora non c'è lo spazio per i tavolini, invece dei due metri canonici dovranno essere 4-5, a seconda di quante persone transitano automaticamente. Ecco, mi sembra che portare all'estremo questa posizione sia, come ho detto prima, veramente brutto, in un momento come questo, anche se è in linea con la posizione del Consigliere Corsetti che ha portato fino ad oggi, negli anni. Grazie.